Ciao a tutti, io sono Fedro e sono in ritardo. Questo è eTrip. E oggi stiamo andando in uno di quei posti che avete presente quando la salivazione... Ecco, in uno di quei posti. Stiamo andando a Bologna, in via Murri 20D, alla Spiadina, in questa piadineria veramente commovente. E ci vediamo lì. E con la magia del montaggio, eccoci arrivati. Siamo arrivati alla Spiadina, che è qui. Adesso entriamo e vi faccio vedere un po' il locale e le piadine più buone di Bologna. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Beh, adesso che avete visto la preparazione, vi lascio con qualche foto per farvi venire ancora più fame. Adesso vedo qualche informazione in più sulla Spiadina. Alla Spiadina. Madonna se sul luminoso sembro Barbara D'Urso. Ok, molto meglio. La Spiadina è aperta 15 anni fa, un po' per scherzo, mi dicevano i titolari. Poi da cosa nasce cosa, è diventato quello che è ora. C'è la possibilità di prendersi la piadina e portarsela a casa, farsela portare a casa tramite il servizio di Just Eat, oppure mangiare direttamente da loro, dato che hanno 22 posti a sedere. C'è anche il bagno, quindi c'è anche questo servizio. Sono aperti 7 giorni su 7. Per gli orari vi lascio il link in descrizione con la pagina Facebook. I cani sono assolutamente accettati. C'è la possibilità di mangiare la piadina sia vegetariana che vegana. L'impasto integrale è vegano, è fatto con l'olio d'oliva. Il prezzo con una piadina e una bibita va dai 6 ai 9 euro. Poi dipende che tipologia di piadina prendete. E vi assicuro che sono veramente molto parcite e vi riempirà. La cosa che li differenzia soprattutto dalle altre piadinerie è la qualità delle materie prime e il fatto che fanno tutto completamente loro. Dall'impasto, grigliare le zucchine, al ragù, fanno qualsiasi cosa loro. E questo è indice di qualità e di amore per il proprio lavoro. Vedrete che cercheranno di esaudire tutti i vostri desideri. Io sono in mezzo a niente, quindi vi saluto, vi do appuntamento al prossimo video. Ciao! Ciao!